Manca una manciata di giorni all'inaugurazione ufficiale, ma è quasi tutto pronto. Eccolo il frutto del sostizio d'estate 2014 Progetto MEC, l'evento organizzato dalla Compagnia delle Griglie che quest'anno ha sposato la causa dell'autismo e l'associazione Accendiamo il Buio. Un nuovo parco giochi per l'ambulatorio riabilitativo dei minori disabili di Spinadesco della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro. 10.000 euro il contributo raccolto grazie alla generosità dei cremonesi che ha permesso anche l'acquisto di una nuova cucina. Un progetto che è un successo soprattutto perché si è riusciti nell'intento di sensibilizzare la città sul tema dell'autismo, creando attraverso momenti di gioco e festa, allegria, interazione e integrazione tra i ragazzi dell'ambulatorio e i loro coetanei. Il gioco per eccellenza è la motivazione più alta per imparare, per chiedere a questi bambini di fare uno sforzo, perché per imparare vuol dire fare uno sforzo. E il gioco è proprio l'occasione migliore perché loro lo facciano con una motivazione. L'altalena da sempre, per chi conosce il disturbo generalizzato dello sviluppo, ma anche altro, ovviamente è una meraviglia e come vedete ne abbiamo scelte tantissime. Cosa significa per i ragazzi avere questo parco giochi e anche questa integrazione poi con gli altri ragazzi? Hai già detto, l'integrazione intanto come primo obiettivo, perché questo vedete che ci sono delle scuole anche qua vicino a Spinadesco e noi speriamo che sorgano anche dei progetti che mettano insieme i bambini delle scuole, i normodotati, con i nostri ragazzi nell'integrazione qua. E poi è anche il momento del gioco, non deve essere visto l'ambiente di Fondazione Sospiro come l'ambiente dove ci sono le terapie, ma ci sarà anche il momento ludico, perché giustamente i nostri ragazzi lavoreranno e avranno il loro momento di giusto sfogo e di gioco strutturato. È stata una grande occasione, un'occasione per le persone con autismo e per la cittadinanza cremonese. Siamo riusciti in pochi giorni, con poche occasioni, a mettere una comunità in contatto con un'altra comunità. Spesso l'autismo è vissuto come una condizione di vita che è complessa, da evitare, da trattare in termini abilitativi e poco di più. Questa occasione, questi eventi ci hanno permesso invece di dimostrare che le persone con autismo e le persone a sviluppo tibolo tipico possono vivere insieme e possono fare feste insieme, che è un altro pezzo dell'abilitazione che spesso manca a questo mondo. Questo è il frutto del sostizio 2014, quindi il progetto MEG 2014 aveva sposato la causa di Accendi il Buio. Come ricorderete, anche voi ci avete seguito con questa mega scritta Accendiamo il Buio, ripresa dal drone e dal cielo. Le migliaia di persone che sono venute a comprare la candela con quei due euro vedono qui il risultato dei nostri sforzi. Una grande soddisfazione. Il fatto che i due eventi ricadono nella stessa settimana comunque ci riempie di orgoglio. Ieri abbiamo inaugurato l'area MEG all'ospedale e oggi siamo qui davanti a questo nuovo parco giochi. MEG sono contento di noi, siamo sicuri.